Vi siete mai chiesti chi vincerebbe in una battaglia epica tra Siren Head e Cartoon Cat? Bene, se ve lo siete chiesti oggi risponderemo a questa domanda e non solo perché ho fatto scontrare tutti i killer più pazzi e pericolosi di sempre Restate qui alla fine perché ci saranno un sacco di scontri folli Iscrivili al canale e lascia un bel like Salve, che sta succedendo qui oltre ad avere un Godzilla pazzo buggato Che si è buggato contro il muro ed è la cosa più brutta del mondo Allora, oltre a questo, che capita ogni giorno qui dentro in questa città Perché sì ragazzi, il video un po' in questa città fa così schifo che ci sono i Godzilla buggati Va bellissimo, noi andiamo avanti, facciamo finta di niente perché oggi abbiamo altro da fare Ok, no va bene, va bene, tu potresti essere leggermente esagerato Potrei ecco, dover aprire il mio menu da admin spremendo il tasto Q e andare a fare la pulizia dei voti Ragazzi, sì, eh, questo qua, eh, lo so Sono un admin e quindi devo farle queste cose Va bene, continuiamo perché non è solo questa Ahia, però sì, fammi continuare Cioè, io ti ho detto, bene, consiglio mio, però devi far continuare Va bene, continuando Abbiamo, abbiamo letteralmente la mappa di Gary's Mod su Ray's Mod ufficiale E io non so come cacchio sia possibile legalmente questa situazione Però abbiamo la mappa di Gary's Mod, signori Sì, perché qui dentro è dove avvengono un sacco di nostri video pazzi E, eh, non... sono finito, sono finito sopra il tetto Ci va bene perché abbiamo tantissime cose da vedere Perché sempre andando sul mio menu d'armi e andando su NPC Possiamo spawnare un sacco di belle cose Tra cui, ragazzi, lo strider, il granchio avvelenato E il granchio di testa non l'ho mai spawnato Voglio vedere tantissimo Cosa cacchio è il granchio di testa? Mamma mia Ok, sarebbe il granchio brutto però con la testa Va bene, va bene, va bene Ciao Posso, posso? Allora, ahia, no Non farmi prendere il revolver dall'admin, eh Non farmi prendere... Ok, perfetto, va bene Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo Andando avanti Sono praticamente... Questa qua, va bene È la mappa classicissima di Gary's Mod Ma vi posso far vedere una cosa Perché di recente ho sbloccato il mio menu sempre d'admin Dei componenti aggiuntivi Che significa che posso andare a spawnare le pc del dodge, signori Cosa cacchio è spawnato? Ok, no, 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 no Potrei aver spawnato qualche cosa di brutto Va bene Non ci preoccupiamo Comunque sì Perché andrò a letteralmente riempire questa città di dodge Ok Per andare poi a farli sfidare contro altri nei pc Baggatissimi Io vorrei tantissimo volare Io, guarda, me ne scappo Cioè, sono tanto contento di stare con voi Ma me ne scappo, ragazzi Andiamo a spawnare anche Se l'è Non so che cacchio sia Credo... Mamma mia che bru... È pieno di next bot La città è piena Zeppa di next bot Andiamo anche a spawnare Ice Show Speed Signori, sì, 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 sì Qua va bene tutto Ice Show Speed Scoobies Che non so che cacchio sia 100k torta Skid e pompa Serbatoio AI Fase completa 3 Veicolo G-Wa-Cat Il paracadute Il... Il... Skid da pompa Dodge Selen Ice Show Speed Bob Torta Scoobies AI Serbatoio Skid e pompa Veicolo di Cat Place Iscrivetevi anche al suo canale Io non so che cacchio sta succedendo Va bene Sì, sì, sì Ci siamo tutti Tutti totalmente buggati Io non so dove i cacchio sono finiti I dodge e le altre persone Non lo voglio sapere Il problema è che adesso Andremo a spawnare Oltre a questi qua I nostri carissimi NPC Tra cui Lo zombie Il zombie veloce Gli Happy Meal Didu Gli Happy Meal Didu Ma non geneticamente modificati Perché attenzione Ce ne sono due varianti Il povero G-Man Che non ha fatto nulla Per essere dentro Questa situazione Il soldato Dell'HECU Il gran che ha avvelenato Mamma mia Che paura Lo strider Ok, ok Abbiamo fatto un mezzo Cassino di NPC È rimasto solo Che Va bene Va bene Va bene Ok Hanno direttamente Disintegrato Ha disintegrato anche lo strider Lui Ma io lo posso uccidere Ok, lo posso uccidere In qualche strano modo Si è riuscito a disintegrare Lo strider Ragazzi Non so come cacchio Abbia fatto Ma restate con me Per esperimenti Ancora più pazzi Perché questo qua È solo l'iniziale Io non voglio Sapere dove cacchio Sono finito Ma credo che non ci vedete niente Neanche io ci vedo niente Va bene Sto volando Con un crowbar Va bene Non vi fate domande Se avete una cosa del genere Significa che siete sul canale giusto Siete sul canale TG Iscrivetevi al canale Lasciate un bel like E commentate qui sotto Con nuovi esperimenti Che possiamo fare Su un sacco di NPC Che abbiamo dentro questa mappa Perché non abbiamo solo questi Perché ho scoperto Che se vado qua E vado su bamboli di pezza Riusciamo ad avere Un sacco di altri NPC Che abbiamo visto In un altro video Che vi lascerò Nelle schede Ma abbiamo fatto Abbiamo la toilette Di schibite Abbiamo lo schibite Di toilette Balura Staffboy Roxy Staffboy L'impugnatura Ragazzo balloncino Birb Fricklet Ragazzo ombra V1 DJ music Golem di ferro Goblin mutante T-rex Sofio raggle Creepy steve Boss ingannevole Verbe Divertimento con ragdolls Di raggle Creatura ombra Tetto Papiro Sense Stickman Compagno di equipaggio Tragociolamento Elite Enrico Fagiolo Grunino Basta C'è Cosa cacchio Ho creato Vediamo se Tutta questa gentaccia La facciamo Uccidere Da I show speed Sì 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 L'odio I show speed Sempre loro Sempre Cacchio Non li ho spawnati Non li vedo Dove cacchio Sare finiti Doge I show speed Io mi potevo fidare Di te Doge Mamma mia Tu cammini pure Sta totalmente Laggando Io farei una pulizia Dei voti Non so voi Ma sta totalmente Laggando È pieno Di NPC Di cose Che sono a passarsi Vicino Proprio Il lag Lo sento Proprio io Da qua E quindi Io Oh Ah Meno male Che abbiamo pulito Tutto Guarda Non vedevo L'ora Non vedevo L'ora Anche perché Ragazzi Io voglio provare A uccidere Voglio fare un test Voglio provare Se il dodge Ma il dodge Non si spona più Ah forse perché Devo levare la fly Vero Ok Sì 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 Va bene Va bene Basta Basta tu Basta tu Aia Aia Volevo provare A vedere Una volta ucciso Questo qua Sto deficiente Proprio patentato Mannaggia Lui A chi l'ha creato Vorrei provare A uccidere Ragazzi Il dodge Sì Vorrei iniziare Ad uccidere Il dodge Via Via Ok Levati Levati Aia Ok 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 Basta 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 Mi arrendo Mi arrendo Basta 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 Devo Devo Prendere I miei poteri Da admin No Stami Ok Aia Ok Aia Fermo 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 Mannaggia Non riesco a uccidere Un dodge Non vi preoccupate Perché abbiamo Ancorarmi più forti Ok Sono riuscito Ad ucciderlo Così Non che ci sia voluto Poco Però insomma Neanche Forte come gli altri Che andremo a vedere Tipo High show speed Ragazzi Sì Non vi fate domande Abbiamo aggiunto Anche High show speed Dentro il Gary Aia Ok Potrebbe Non essere andato Come previsto Io non Ok Aia Devo volare High show speed È imbattibile Non ci riesco A prendere così Fucile da caccia Ah Qual fucile da caccia L'abbiamo ucciso Proviamo Il Bob Dai Il Bob Guarda che brutto Il Bob Mannaggia Lui Guarda che brutto Guarda che brutto Ciao Ciao Io sono Bob E voglio E voglio essere bello In realtà Faccio schifo Ma sono comunque Bob Sono comunque Bob Bellissima questa canzone È la nuova Di Tegucolis Non so se la conoscete Dopo agherandoci Ciao Io sono Bob Non vi fate domande Andiamo avanti Perché Però uccidere con una crowbar Ma tu fai un sacco di danno Ok 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 Prendiamo questo fucile Che mi sembra molto carino Molto simpatico Ma non lo riesci comunque a uccidere Non lo scalfiamo Proprio minimamente Neanche col fucile da caccia Neanche tu Va bene va bene Ci va bene Ci va bene Perché Se andiamo sempre Sul due menu da admin Che ci stiamo andando Un sacco di volte oggi Su armi e utilità Sono un admin Sì Ho il revolver dell'admin Ragazzi Ed eccolo qua Questa pistola Che state vedendo Ok Mi metto qua In modo che non mi può raggiungere One shot A qualsiasi Nei pc E qualsiasi persona All'interno di Race mod Ragazzi Perché Se noi andiamo qua E andiamo a vedere Dove cacchio Fii Aia Ok Sono morto Potrei essere morto Devo riprendere La gun dell'admin Ok Sono andato qua Se andiamo da Bob Ragazzi Mi serve solo un colpo Pac Pac E ragazzi Sembrava uno sprunchi Ve lo devo far rivedere Assolutamente Guardate Guardate la sua versione horror È uno Sprunchi Aia Aia È uno sprunchi In versione horror Ma cosa cacchio È successo Cosa cacchio Sta succedendo In questa mappa Iscrivetevi al canale Lasciate like Perché voglio provare Anche il paracadute In teoria andiamo qua Riusciamo a prendere Il paracadute Ah Guardate che bello Sì però non sto volando Ok Facciamo finta Io sono in volo Ragazzi Sono in volo Sto volando È una mappa Bruttissima Di race mod Ma che bello Ah ah E lasciamo il volo Ok Ah vabbè Così non ci facciamo danno Poi facciamo così Aia Vabbè Io sono pazzo Non replicate queste azioni A casa ragazzi Capito Non vanno replicate Ok Andiamo avanti Perché abbiamo Alte NPC 100k torta Ma io non ho raggiunto Cosa cacchio È la torta per i 100.000 iscritti Ma 100.000 iscritti di chi Magari Ragazzi Iscrivetevi al canale Così che riesco a mangiare La torta di 100.000 iscritti Lasciamo perdere per ora Perché Non è una cosa Che ci interessa Ragazzi Io voglio vedere Se riesco a far volare Come avete visto Nel mio video Anche asho speed E anche tutti i next bot Ok Non ci riesco Va bene Missione falli Ok no Ok riesco a farne volare Ragazzi Un asho speed Che vola Un asho Aia Aia No 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 Tu devi volare Asho speed Asho speed Devi volare Devi volare Asho speed Devi volare Ah no Aspetta Allora fermo Aia Però avete visto L'avete visto tutti Che stava volando ragazzi L'avete visto tutti Sì Sì Sto fatto così Boom Boom Allora te v'hai ucciso Io ti vuoi tanto bene Caro però te v'hai tanto ucciso Boom Eh no no Non riesco Non riesco ad uccidere Ah ok Ah Ce l'abbiamo fatta Meno male Mamma mia Allora Vediamo se riesco a uccidere Il serbatoio Con intelligenza artificiale Ok No questo qua credo che non ci Non ci riesco Ma lo posso far volare Il serbatoio No perché Mi sta venendo Un attimo Un dubbio Io posso far volare Il serbatoio Ok Allora Mi serve la pistola per attrezzi Eh posso Sì 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 Ci riesco Ci riesco Ragazzi ragazzi un cararmato volante Ok ok Devo fare il cararmato volante Devo assolutamente fare il cararmato volante Voi lasciate un like E iscrivetevi al canale Perché Ditemi In che cacchio di canale Vedete un cararmato che vola Non lo so Se non è il mio Andiamo Ahia Cosa cacchio Ho sparato Ah ok 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 Vai 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 Avanti Avanti Dobbiamo farlo volare L'obiettivo di oggi è riuscire a Faia Sì ok Io devo volare anch'io Però mi sa perché Io no Mi riesco sparare anche da qui sopra No godo Godo Guardate guardate Ragazzi Tra poco prenderà il volo Tra poco prenderà il volo Ne sono sicuro Io non so se Se sta veramente funzionando Perché il cararmato È potentissimo Ma va bene Noi nel dubbio lo prendiamo Con la pistola Ok Non lo riesco a prendere neanche Con la pistola fisica Ma Gli posso infliggere Un cacchio di danno Ok Va bene Serve la gun dell'amministratore qua Serve la gun dell'amministratore Potrei essermi sbagliato Potrei essermi sbagliato Va bene Potrei essermi sbagliato Sai Aia Ah ok Devi morire Perfetto Ah Perfetto L'abbiamo fatto Ah Meno male Sto cararmato di schifo Mannaggia a lui Andiamo avanti Perché Tra le bambole di pezza Sì ragazzi Non vi Abbiamo anche un civile Però in realtà Dove che anche finire Un civile Un civile Abbiamo Rendete conto Un civile Che non sto neanche vedendo Credo che non l'abbia neanche esponato Civile Dove cacchio Civile Devi venire Siren Va Va bene Siren Head È stato bello Conoscerti Grazie mille Per la presenza Dei morire Vi 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 Grazie a tutti